Anche in provincia di Ragusa sono state organizzate numerose iniziative perché la giornata internazionale contro la violenza sulle donne costituisca un insostituibile momento di riflessione. Soprattutto per quanto mi riguarda mi sto adoperando perché passo un messaggio cioè che la violenza domestica non è mai un fatto privato. Così la senatrice del PD venera a Pado in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Per la senatrice del PD la violenza contro le donne non è un'emergenza ma l'esito di una società che pone uomini e donne in una relazione di disparità e subalternità. E non è mai un fatto privato piuttosto riguarda tutti un fenomeno che può essere fermato solo se si compie nazioni concrete. La senatrice Pado in questo contesto ricorda il primo atto del Parlamento in questa legislatura che è stata la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa firmata di Istanbul. Che per la prima volta definisce la violenza sulle donne come una violenza dei diritti umani fondamentali. Il Parlamento ha poi approvato un decreto legge che oltre a rafforzare alcune tutele sul piano penale avvia un piano nazionale antiviolenza per promuovere indispensabili politiche di accoglienza e prevenzione. Da campagne di erogazione al rispetto nelle scuole, alla formazione di tutti gli operatori proposti al contrasto, al sostegno alla rete dei centri antiviolenza che in questi anni hanno garantito non solo l'indispensabile servizio di accoglienza delle vittime ma sono stati veri e propri laboratori sociali e culturali. La Padua precisa che di questo lavoro è stata protagonista il PD e tutte le donne democratiche. L'ospicio è che anche nell'area blé si cogliesse il momento derivante da questa riflessione per sviluppare atti concreti che mirano ad abbattere la violenza e a promuovere una nuova cultura fondata sulla libertà e rispetto all'autonomia femminile.